Allora ciao a tutti, sono Marcus Verba, canto qua a Firenze nel Teatro del Maggio e facciamo Falstaff di Verdi, capolavoro incredibile per me. Devo dire che è una produzione bellissima, come si vede i costumi bellissimi, incredibili e poi allestimento bellissimo secondo me, di epoca proprio. Allora dovete venire a vederlo, poi c'è Maestro Gatti che dirige. Io ho imparato tantissimo facendolo adesso anche con lui, perché Ford è un carattere molto speciale diciamo. Lui è un tipo un businessman, per lui è importante trovare uno sposo perfetto per sua figlia però in un senso materialistico. E poi l'altro lato di Ford che è gelosissimo quando poi sente che c'è questo problema, questo incontro tra Falstaff e sua moglie Alice, impazzisce completamente. C'è proprio una gelosia infinita. Poi lui è proprio padrone di casa, no? Ha fatto lui, tu devi fare questo, tu devi fare questo, tu devi fare questo, tu vai là, tu cerchi, vai lì. Lui proprio ha in mano tutto, proprio vecchio stile, il padrone della casa. Però poi lui pensa che è risolto quel problema con Alice, però c'è l'altro problema con lo sposo. E poi come vediamo poi alla fine anche lui cornuto. Io spero che venite tutti. Dovete sentirlo perché Falstaff è sempre Falstaff. Grazie. Grazie.